Un ulteriore e mirato intervento a favore del tessuto produttivo locale lo afferma l'assessore Andrea Maria Antonini a seguito della pubblicazione del nuovo avviso della Regione Marche che prevede la concessione di bonus a beneficio di micro, piccole, medie imprese e liberi professionisti con sede nel territorio regionale. Complessivamente sono a disposizione risorse economiche pare a 5 milioni e 400 mila euro di cui la metà destinate all'area del cratere e dei comuni limitrofi. Si tratta di una misura molto particolare e attesa da tempo dal sistema aziendale della nostra Regione che ha dovuto affrontare non poche difficoltà congiunturali negli ultimi anni, non per ultimo proprio il rincaro dei costi energetici e il rialzo dei costi delle materie prime. Queste le parole dell'assessore Antonini che aggiunge, proprio per questo obiettivo nell'intervento promosso dalla Regione Marche su impulso del Presidente Acquaroli e dell'intera giunta, è quello di concedere un contributo a fondo perduto pari al 50% sull'incremento delle spese legate al consumo energetico tra il periodo gennaio-dicembre 2021 e febbraio-dicembre 2022 con un limite massimo in funzione della dimensione aziendale, un'azione che tiene conto delle esigenze e dei fabbisogni di liquidità di un settore strategico e sempre più centrale della nostra economia. La domanda andrà presentata a partire da giovedì 18 maggio mentre il termine di scadenza è fissato a martedì 30 maggio. La Regione si riserverà di chiudere comunque lo sportello esaurimento delle risorse disponibili.